La data è cercata in rosso nel calendario e l'attesa sta finendo. Domani, martedì 10 luglio, è l'ultimo giorno utile per gli operatori che volessero manifestare interesse a prendere in affitto il ramo d'azienda della Suaco, di fatto la gestione dell'aeroporto di Comiso. Questa è una sorta di ultima spiaggia alla quale tenta di approdare il management della società contro una crisi strutturale irreversibile dovuta alla mancanza di liquidità ma anche all'andamento sempre negativo della gestione in costante perdita per almeno 2 milioni e mezzo di euro l'anno. L'aeroporto di Comiso potrebbe aprire ed in parte nonostante tutto ha aperto prospettive nuove di crescita e di sviluppo economico per il territorio e il bilancio non va valutato solo nei termini delle poste attive e passive della gestione contabile. In questo senso si muove l'appello accorato revolto dal centro commerciale naturale di Ibla perché questa opportunità non cada nel vuoto e sia quindi prorogato il termine giacché appena 15 giorni di pubblicazione dell'avviso non sarebbero sufficienti a tutti gli operatori potenzialmente interessati a valutare i termini dell'operazione e a manifestare la propria disponibilità. Al capezzale dello scalopio la torre interviene la regione il cui presidente schiera oggi metà del governo per affrontare il problema complessivo degli aeroporti siciliani. Nella sede di Catania riunione operativa con Musumeci il suo vice Gaetano Armao titolare della delega all'economia nonché l'assessore al turismo Pappalardo quello alle attività produttive Turano e alle infrastrutture e trasporti Falcone. Confronto con tutti i dirigenti a venti poteri e competenze su questo scottante dossier e ovviamente con presidenti e amministratori delegati di tutte le società di gestione degli scali di Comiso, Catania, Palermo e Trapani. L'urgenza è complessiva ma a Comiso c'è un paziente moribondo. Salvarlo è ancora possibile ma le cure devono essere immediate e risolutive. Anche per questo Musumeci ha promosso in extremis il vertice di oggi.